Non me ne frega un cazzo dai balconi. Se tengono lì gli ostaggi, buttiamo giù la porta principale. Blindati! Avanzare! Andiamo, andiamo! Legate pali alla porta! Io apro la porta e tu esci con queste tenendole in alto. Tu credi, orfanello? Figlio di putana! Adesso che farai? Ti farai sparare come hanno fatto a tuo padre. Fermi! Denver! Denver, che fai? Denver! 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 Che fai, Denver? E qui, fratellino, la grande sorpresa. Quella a cui stai pensando. Bandiera bianca! Bandiera bianca! Bandiera bianca! Che sta facendo? Bandiera bianca! Bandiera bianca! Obiettivo nel mirino. Chiedo l'autorizzazione a sparare, signore. Permesso di sparare. Ripeto, permesso di sparare. Uno stato può permettere che porti l'esercito in strada. Uno stato può permettere che entri nella riserva nazionale. Addirittura che gli rubi l'oro. Però c'è una cosa che non può accettare, che non può tollerare che succeda. Uno stato non può accettare che arrivi ai suoi segreti. Se noi tiriamo fuori quelle cassette rosse e loro le vedono, impiegheranno meno di un secondo a capire che cosa abbiamo tra le mani e saranno nostri. Figli di una gran puttana. Conservano i segreti del Ministero dell'Interno. Degli esteri. Dei servizi segreti. In cosa si spendono i fondi riservati? Le cloache dello Stato? Tutto quello che il sistema non può permettere che si venga a sapere per non rischiare di sprofondare nella fogna in cui nasconde i suoi escrementi. Figli di puttana! Fermiamo l'attacco! Ripeto, annulliamo! Rispettiamo la bandiera bianca e ritiriamoci! È possibile che quei figli di puttana stiano nuotando nella camera? Non lo so, colonnello, non lo so. Grazie! 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 Grazie.